Farnaco, quando dico tira? Quando io dico tira, tu tira, hai capito? Allora, tira subito. Ok, ma lo faccio. No, che ha detto tira? Tu hai detto tira? Ho detto quando io dico tira, tira. Noi mo tira, hai visto che mo? Tu hai detto tira? Non devi tirare mo. E quando? Quando dico io? E perché ti dice tira? Ah? Io ho detto tira, no. E allora che tira fa? Non tiro. Ma sto, annaccia la miseria. Andate in modo di tirare. Va! Io devo tirare. Va! Io ho detto tira. E io ho detto tira, ma sto. Ma che si, si, io dico va, va che si, che si. No. Va, significa tira. E mo tiro. Ma annaccia la miseria. E ti no, ma devo vedere. Come faccio a vedere? Come faccio a vedere? Ma sto, il problema è nostro che non ci capiamo, ma sto. la bc della comunicazione a proposito di comunicazione ma sto pensando una cosa siccome io ho fatto ingegneria ho tanti amici che si occupano di web marketing che hanno fatto uno stagio con me di formazione un amico mi ha detto la mese in un'azienda abbastanza affermata abbastanza consolidata perché non vi buttate online io posso parlare con il masto glielo dico al masto se il masto è disponibile ha detto si il masto è disponibile perché è l'utile che ti chiamavo a fare questa cosa qua e lui che cosa mi ha detto possiamo cominciare subito con un zido così ci lanciamo subito in rete quando vengo passo da te tu c'è un'agenzia si c'è un'agenzia che si occupa di web marketing web designer quanto costa per il sito 3.000 euro qua giustami il cesso ma fu così e perché non ci possono fare non è giustami il cesso per fare il sito io e beh che c'è due cesso oggi due cesso domani e quindi ho detto che possiamo fare mi devi dare solo un piccolo acconto 3.000 euro non è un problema vado dal masto quello c'è il conto corrente no tranquillo ci fai avere solo il codice IBAN del masto così noi possiamo prelevare direttamente senza che tu vai lì ad andare a risolverlo se è il codice IBAN no dai allora vai che me lo memorizza aspetta v a v a v t p g u caffè 3΄ v ma sto non sali sulla scala perché te lo sali sulla scala sali sulla scala sei passato sotto la scala ma fa sfortuna ma sto un amico di mio cugino l'ultima volta che passò sotto la scala morì l'infarto fulminante ma sto se ne andò subito porta sfortuna sali sulla scala sali per forza ma sto c'è una normativa ben precisa è la legge delega 196 del 2007 che mi deve tutelare che del 2007 è scaduta sali sulla scala ma sto non sali sulla scala ma sto perché ci devo sali sulla scala sali sulla scala non mi toccare non mi toccare ma sto perché non ci salgo qui ci vuole un'apposita normativa che vada a tutelare quella che è la sicurezza sul lavoro la vuoi la sicurezza del lavoro tu sì allora sali sulla scala se non è il masso quindi tu scuocciati ti manda a casa ti manda a casa a fare il lavandino perché il masso non c'ha ragione tu sei un lavandino allora sali sulla scala a parte che ho un lavandino e poi non è così come dici tu caro masso non è così perché io se devo salire su questa scala voglio il kit voglio il kit allora kit è nuovo sali sulla scala kit è stravito va bene va bene sto kit va bene sto kit e sali sulla scala ma sto però io te lo passo e tu monti mi raccomando però guarda lì sotto ma sto perché se qua cado è un casino eh ma qua ti manda stai ora devi sparire ora devi sparire ora devi sparire ora non l'ho fatta non l'ho fatta poi non l'ho fatta poi sparire perché serve qualcosa ma fatte e vedi un café non ci venire più state là state al bar state al bar state al bar Grazie a tutti.